Presidente, il 2022 sarà l'anno delle infrastrutture? Io sono proprio per lavorare nel 2022 perché le infrastrutture, le grandi infrastrutture attese da anni in Toscana possano trovare una loro partenza. Mi riferisco soprattutto a due. Innanzitutto l'alta velocità, è fondamentale il tunnel che bypassa Firenze lasciando in condizioni di servire il traffico e i cittadini che ne sono protagonisti a livello regionale, a livello pendolare, nella dimensione della superficie, dei collegamenti di quello che viene chiamato il laccio ferroviario, ovvero un insieme di binari che attraversano Firenze e possono svolgere una funzione urbana avendo sempre come terminale le due stazioni di Santa Maria Novella e di Campo di Marte. Ma dall'altro il bypass che dedica al sottoattraversamento l'alta velocità noi ci auguriamo proprio che sia il 2022 l'anno che vede partire la talpa, ovvero quello strumento, quel macchinario che può consentire il tunnel di 6 chilometri e 300 metri e finora è lì alla partenza perché in realtà si è già predisposto tutto quello che è il passaggio fino all'inizio del tunnel sia a Belfiore nella zona di via circondaria Firenze sia a Campo Marte il fatidico momento di partenza della talpa, l'obiettivo è che sia proprio nell'anno che viene. Dall'altro l'opera che rappresenta in qualche modo sulla costa il simbolo di un nuovo rapporto con il mare e con le vie marittime ecco quindi la partenza della Darsena Europa il molo che può allargare le potenzialità del porto di Livorno entrando naturalmente con una banchina che va più a fondo e consente un pescaggio delle navi che arriva dagli attuali 12-13 metri ai 20 metri la Darsena Europa è un progetto su cui la regione toscana si è impegnata molto addirittura 200 milioni e la parte della regione toscana su questo tipo di infrastruttura ferma per anni e abbiamo sviluppato dal progetto di Massima quello che è un progetto definitivo che è stato messo in gara visto l'aggiudicazione questa aggiudicazione porta al consorzio di soggetti che ne sono stati protagonisti al terminare il progetto esecutivo e poi a far partire materialmente i lavori io conto nel 2022 a vedere partire materialmente i lavori naturalmente questi sono due grandi opere ma in realtà c'è tutto il sistema delle tramvie su Firenze che io auspico possa avere un impulso decisivo intanto noi come regione ci abbiamo messo i soldi vale per quella di Bagnarripoli, vale per quella di Campi vale per la destinazione dei fondi europei di sviluppo regionale il cosiddetto FESDRE per quella di Sesto ma non abbiamo l'ambizione su queste di vedere completare le opere l'importante è che almeno una di queste tre veda partire i lavori nel 2022 sappiamo che poi uno degli obiettivi di legislatura che mi sono proposto è sempre stato quello di un collegamento fra Firenze e Siena le due antiche capitali della Toscana in 50 minuti è decisivo l'elettrificazione, il doppio binario da quello che è la stazione di Empoli a Granaiolo oltre Castelfiorentino e sotto questo aspetto sarà RFI protagonista dell'opera l'impegno è proprio che anche quest'anno riesca a partire quando parlo di infrastrutture parlo anche di piste ciclabili in primo luogo la ciclovia del Sole, la ciclovia dell'Arno che possano ulteriori passi avanti farli e naturalmente sarà l'anno in cui imposteremo la Toscana Strada SVA per la gestione della FIBI l'asse che non autostradale è più frequentato della Toscana addirittura anche 52-53 mila macchine al giorno ma sappiamo che soprattutto i tir e gli autotreni di grande prezzantezza portano poi a quei danni che abbiamo visto nella eccessiva frequenza proprio nel comune di Lastra Signa nello scorso mese di gennaio per questo un ente di gestione che possa costruire anche un via preventiva la manutenzione che possa prevedere progetti per lo sviluppo sia della corsia di sicurezza sia in alcuni tratti anche della terza corsia è una priorità importante grazie grazie grazie